Naima Bid, un cantante con una voce considerevole, ma anche un caratterista, uno showman a tutto tondo, che interpreta la vita e soprattutto le opere di uno dei più grandi cantanti della storia della musica. Mi viene fuori un ritratto piacevole, scanzonato, fuori dagli schemi. Naim utilizza il suo fascino canoro per concupire letteralmente il pubblico presente, che subisce e a volte partecipa divertito a una vera e propria lezione di musica. Ho deciso di omaggiarmi quando ho capito che ero veramente diventato molto importante. Sapete, io ho vissuto una vita a modo mio come nessun altro è stato in grado di fare, ma quando ho capito che avere 150 anni comporta la pressoché immediata estinzione di se stessi, ho deciso che solo io mi sarei potuto omaggiare perché tutti gli altri fanno schifo e quindi non lo possono fare. Io mi omaggio da solo. Frank Sinatra canta Frank Sinatra, va bene? Questo è il motivo. Una lezione di storia, un'immersione nella musica, uno spettacolo senza precedenti. Io sono stato il primo teen idol, sono stato io il primo ad essere adorato, idolatrato. a